Guardatelo perché Enrico ha diretto Gali lo scorso anno Ma Enrico ha diretto anche i Mane Skin quando hanno vinto Come li hai conquistati i Mane Skin? Con una partita a biliardo Ma perché tu sei un esperto, è il tuo telefono che suona? No, il mio telefono mi chiamano Che meraviglia, chi è? Annalisa? Chi è? R, Roberto? No, è semplicemente quello che mi fai lavori a casa Guarda che dati tempi dire semplicemente non va bene Sì, infatti, no, perché in realtà è un anno e mezzo che sto ristrutturando casa È il mio nuovo incubo Ecco Il mio capolavoro sarà casa mia Fantastica Quella di Gali, rimettiamola Ma la cosa bella è perché casa mia è chiamato quello che mi fai lavori a casa mia Questo è l'ultimo Sanremo di Velozzi Sto giochendo se mi fai lavori a casa mia Ma, all'origine è partito così Guardatevi Enrico Sono solo parole Camera sul direttore Enrico Melozzi Il maestro Il maestro Enrico Melozzi Rolls Royce Dirige l'orchestra il maestro Enrico Melozzi Rolls Royce Rolls Royce Ringo Starr Dirige l'orchestra il maestro Enrico Melozzi Quando ti manca il fiato Testo e musica di Gianluca Grimiani ed Enrico Melozzi Dirige l'orchestra proprio il maestro Enrico Melozzi Supereroi Dirige l'orchestra il maestro Enrico Melozzi Supereroi Come io e te Se avrai paura allora stringimi le mani Casa mio Dirige l'orchestra il maestro Enrico Melozzi Non mi serve un'astronave Lo so Casa mia o casa tua Che differenza c'è E io ho uno scupo Vi faccio vedere Melozzi Sì bambino Perché Otto Festival Maestro Compositore Violoncellista Produttore discografico Ma è stato anche un bambino Sì stranamente ma è vero Esatto Come commenti tu bambino Amato dai nonni Dalle zie Dalla mamma Finché poi avrai uno stop Quando eri ragazzino Sì Eh sì perché a 11 anni Ho fatto Cioè io facevo sempre casini Combinavo qua e ho fatto di tutto Ho fatto di tutto Ho fatto disastri ambientali Tutto a 5-6 anni Lanciavo oggetti dalla finestra Ma per sperimentare la gravità Capito Cioè erano esperimenti in realtà Non erano atti vandalici Scusa se ti guardo così Era curiosità No nelle ultime ore C'è una persona che ha perso la vita E probabilmente Ci sono stati due bambini Che hanno lanciato una statuetta Esatto Ma io lo capisco perfettamente Perché quando ero piccolo Sai Quando sei bambino Provi Fai esperimenti Ecco perché poi ci devono essere sempre gli adulti Era curiosità Esatto E tua mamma? Mia madre è poverina Terrorizzata Fino a quando non è arrivato Questo evento drammatico Del 1988 Dove sono andato a finire Sotto una motocicletta In bicicletta andavo Sperimentavo Correvo Facevo E in quel momento È successo questo incidente Terribile Che mi aveva costretto Per quasi due anni in ospedale E infatti ho portato ancora i segni C'è una cicatrice qui in fronte Ho subito diverse operazioni Alla gamba Il ginocchio Era rotto in otto parti Manubrio Vicino al fegato È successo di tutto E quindi Da che ero uno Che appunto Sperimentava la vita Anche combinando Dei guai giganteschi Mi sono ritrovato A essere immobile Fermo Quindi tutto di botto Anche gli amici Spariscono All'inizio ti vengono a trovare Tutti Anzi se ne hai pure troppi E poi piano 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 Rimani solo Nella solitudine Ho iniziato Con il computer A giocare con il computer Dove ho trovato Un programmino Per scrivere musica Copiando Copiando la musica Su quello È diventato poi Il mio lavoro Il gioco Che amavo di più Era copiare la musica E riascoltarla E così è Quella musica che ti ha salvato Ti ha cambiato la vita Assolutamente Cominci poi a studiare E prima Di vederti all'opera Io ti ho chiesto Come hai conquistato I Maneskin I Maneskin Li hai conquistati Con il biliardo Sì ma È un po' riduttivo Perché in realtà Il rapporto con i Maneskin Nasce grazie al legame Strettissimo Che avevo con il loro produttore Che tuttora ho Con il loro produttore artistico Fabrizio Ferraguzzo Che ha Di fatto imposto Un po' La mia presenza Al management Dicendo se io Se non c'è Melozzi Io non lo faccio Allora Allora Da lì è nata Questo primo incontro Dove Stavamo aspettando Il nostro turno Nello studio Tiburtino Qui a Roma E c'era un biliardo C'era un locale Con questo biliardo Dice guarda Enrico Dagli un po' Guardali tu Perché io devo andare Stai con loro un'oretta E loro si misero a giocare a biliardo Io li guardavo In disparte Perché io Mai giocavo Cioè mai Mai toccato Una stecca da biliardo Cioè tipo Fantozzi Proprio zero Allora mi chiedono A un certo punto Ma maestro Fai un tiro Provaci così E sai quelle botte di fortuna Dove tu Dai il primo colpo E fai tipo tre buche Contemporaneamente Si sei fermato? Sì Ho fatto Ho fatto finta Di essere un esperto giocatore Ma in realtà Ma in realtà È stata È stata proprio Una cosa Di quella È la fortuna Del principiante Cioè E li hai conquistati Non a caso E allora Ti entusiasmati Ma maestro Un genio Del bigliar Quando loro hanno vinto Sanremo Hanno preteso Che tu fossi con loro Te lo ricordi quel momento? L'abbiamo ripreso? Perché a sorpresa vincono Li voglia Amadeus Insomma Non erano proprio In un momento E devo dire che io ero forse L'unico Uno dei pochissimi Addetti ai lavori Che credeva Che quel progetto Non fosse soltanto Un grande passaggio promozionale Al festival Perché a volte si va al festival Non si va sempre per vincere Si va anche per fare Un po' di promozione Certo No questo è un bel passaggio Promozionale No questo è un passaggio da podio E poi è successo L'irreparabile Vediamo I Vadeschi vincono Il festival di Sanremo Vincono il festival di Sanremo Sono fuori di cesta Ma diverso da loro E tu sei fuori di cesta Ma diverso da loro Questo Sanremo si è parlato tanto Di acchitare i fiori Si esatto E noi vorremmo darli Simbolicamente Invitando sul palco Il nostro direttore Enrico Melozzi Vieni maestro Vieni E questo È un modo simbolico Per darli A tutti i direttori E a tutti i musicisti Che hanno partecipato A questo festival Grazie È stato un onore Enrico posso chiederti Quanti anni hai? 47 47 anni? Sì Io me ne sento 12 Però Circa Dai 12 ai 13 anni Senti ma anche quando È diretto la notte dei serpenti Perché lui è avruzzese E ha deciso di restituire qualcosa Alla sua terra E quindi Il 20 luglio scorso Ha fatto un concerto pazzesco Mettendo insieme Grandissimi artisti E non so se anche quella sera Portava questi occhiali Un po' Alla Sandra Sì Sandra Mondaini Vero? Sì sì Io li porto quasi sempre Perché Diciamo È il mio contorno occhi preferito Lo uso come Copriocchiai In realtà Perché noi musicisti Facciamo una vita Abbastanza notturna Per cui Di giorno Perciò ma Gioio li ha Sì Posso confermare Che questo è il motivo Guardiamo Guardiamo Melozi Durante la notte dei serpenti Grazie a tutti Grazie a tutti Canta una canzone spensierata Che non può pensare niente Canta la cuscita sti Parole senza annunciare Alle regole ma non tanto Canta una canzone spensierata Con silenzio ma cinta Non puoi cascare e parlare Allora intanto ci ha raggiunto La dottoressa Cozzolino Altri personaggi stanno arrivando Visto che tu devi sapere Caro Melozi Che ci sono le carte Di psicologia qui Quindi in base alla domanda La dottoressa Cozzolino Da un po' il tuo profilo Ma secondo me Già capito come sei Come lo potremmo definire? Come tutti gli artisti Guarda la pausa che ha preso Guarda la pausa che ha preso Il suo daimon Sai che cos'è il daimon? È la tua vocazione La cosa più vicina alla felicità È la possibilità di ascoltare Il proprio daimon La propria vocazione Quella che Prima parlavate di preti No? Ecco quella che hanno i preti La chiamata Ce l'abbiamo tutti Ognuno per Quella roba Che ti trafigge lo sogno Se non avesse avuto Quell'incidente L'avrebbe avuto lo stesso Questa chiamata? Assolutamente sì L'avrebbe trovata In un altro momento della vita Perché io prima facevo Io ero convinto Di fare l'atleta Ero un Proprio facevo Il salto in lungo Facevo dei risultati Ma davvero? Di livello mondiale Sì veramente Aveva preso un tamberi? Sì Ma guarda Salto in lungo E poi Salto in alto Esatto Però Io ero un'atletica così Così stiamo Così stiamo Io una volta ormai Finita Però Io giuro Io avevo proprio la vocazione Di fare l'atleta Pensati E quando è successa Questa cosa della musica Ho riscoperto questa cosa Che in realtà Anche già da prima C'era Cantavo Fischiavo Suonavo il pianoforte Così Però non avevo pensato Che potesse diventare La mia vita Che l'ha portato Poi a avere dei successi Pazzisti Chissà invece Qual era la sua vocazione Sicuramente quella Di fare l'attrice Visto che Poi davvero Ha conquistato Una delle serie più seguite Qui proprio in Italia Ma anche nel mondo Che è Doc E poi adesso È anche l'ex moglie Di Lillo Parliamo della serie Lillo 2 Lei è Sara Lazzaro E la presentiamo così Insomma come vi siete conosciuti? A Tokyo Marzia si era persa È pericoloso perdersi a Tokyo Perché al primo Frientendimento Ti fanno il karate addosso E anche alle donne Io penso che Il karate addosso alle donne È forse Quando la civiltà Non è più Veramente tale E quindi Ho incontrato Questo sguardo Bravioso E mi sono detto Sono precipitato L'abisso Di questi occhi di gatto Ma voi invece come vi siete conosciuti? Un locale di scambisti Come? Scusa Un po' troppo mi sembra Un po' meno Lasciami fare Un bar di scambisti fetish Sulla Colombo No visto Questo bar stavo in macchia Stavo voglia di bere una cosa Sono entrato Scusa Tu con chi eri in coppia Se Luna l'hai conosciuta lì? No appunto sto dicendo Quello che ho detto Stavo da solo Un bar di scambisti? Per caso Non ho capito Per caso Poi certo Una volta Ormai stavo lì E niente Quindi Per sdrammatizzare Ha sdrammatizzato con me Alla volta buona Sara Lazzaro Fly me to the moon Let me play Among the stars Let me see what springs Like a Jupiter Another world Scusa Ma abbiamo un caso Perché lei da Luca Argentero Doc È passata ad essere la moglie di Lillo Io sono Lillo E poi in realtà lascia Lillo Per Corrado Guzzanti Allora cara Sara Lazzaro Questo era Argentero E ce lo ricordiamo Poi dopo abbiamo un'evoluzione Arriviamo a Lillo Per la serie Giusto? Sì E vediamo ancora Lillo Vediamo ancora Lillo E poi vai a Corrado Guzzanti Come stai Sara Lazzaro? No io sto Dimmelo Sempre meglio direi no? Pensate c'è anche un uomo che ha sofferto Questa è la serie Lillo 2 Va dove va? Su Prime Video da oggi Solo su Prime Io non lo potevo dire Su Prime Video trovate tutto È una seconda stagione assolutamente folle Divertentissima C'è anche il multiverso Quindi noi ci siamo divertiti tantissimo Beh insomma c'è una persona invece che ha sofferto tantissimo Sara Guarda lì Ciao Sara Ecco volevo approfittare di questa occasione So che sei lì da Caterina E volevo dirti che Mi hai fatto veramente soffrire tanto per amore in questa stagione Io questa cosa con Corrado Guzzanti Questa attrazione L'ho vissuta un po' male Devo dire che è venuta bene nella serie Perché ho sofferto veramente Voglio solo dire questo Ciao Lillo Ho rovinato un'amicizia Eriko Melozi La dottoressa Ecco qui E qui abbiamo delle carte Vai prendetene una E mi dicono che c'è Giguilamo Mariotto Che si sta offendendo Perché vuole prendere anche lui la carta Vabbè facciamola entrare Nel frattempo loro scelgono Va bene Vieni accanto a me Vieni Scegli la carta No ragazzi però ne serve una Stavo cercando l'undici Cercavo l'undici ma non l'ho trovata Voi l'undici E intanto cerco Tu leggi la tredici intanto La tredici di Melozi La tredici era la mia Ma cosa volevi la tredici volevi Vabbè rispondi anche tu a questa domanda Chiudo Chiudo E devo anche rispondere suppongo Beh Pensateci tutti anche a casa Il regalo materiale più bello Che avete ricevuto Ci ho pensato un po' Secondo me Adesso mi è venuto in mente E quando mia zia Giuliana Mi ha regalato Cioè proprio mi ha detto Da questo momento questa cosa è tua Io andavo sempre a toccarla A giocarci Non ne poteva più Era la chitarra di mio nonno Ah Un giorno mia zia mi ha detto Adesso da questo momento Questa chitarra è tua Te la meriti tu Perché hai dimostrato Che non è un gioco Per te la musica Ma è la tua vita Ma la chitarra la sai suonare? Sì sì Ce l'abbiamo una chitarra? L'altra è quella chitarra Che è apparsa prima Lì nel video Perché tu cosa suoni? Chitarra? Violoncello No la patente Ce l'ho del violoncello Vabbè Diciamo allora Suono male tutto Qualsiasi strumento male Lo so suonare Ma lo male Però il violoncello è il violoncello Non ce l'ho la patente Sono autorizzato Dal conservatorio Un po' come i predi Del certificato Io ho il certificato Posso suonare il violoncello Poi il pianoforte Il basso Ti piace lui E a Sanremo ci fa impazzire Le maracas Suono le maracas Sono diplomato In nacchere Ma tu hai scelto la tua carta Scegli Intanto legge Sara La numero uno Quella di Sara Risponditi anche voi a casa Qual è il complimento E qual è la critica Che ricevi più spesso Sui social Ah La critica che ricevi più spesso Sui social E il complimento Spesso mi viene Come complimento La naturalezza Che per me è un complimento La semplicità La semplicità La naturalezza E più spesso sui social È che Non rispondo molto spesso ai DM Che non sono molto attiva Sui social Ma ti va bene Sapessi a Mariotto Che gli scrivono No 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 Devo dire che è questa Perché non hai guardato Perché non rispondo Sì Mariotto hai scelto? Sì Dai prendi Qual è la numero? 37 Ah bella questa Ti sarebbe piaciuto Nascere del sesso opposto? 60 secondi E ci risponde Secondo voi Risponde sì No Forse Sto bene così 60 secondi Non c'è il golden minute Sì No mi vedevo Tutti i belli rilassi La rosa è tuona Ancora buon pomeriggio Stiamo giocando A carte scoperte Divertitevi anche voi A rispondere alle domande Che leggono i nostri ospiti E poi c'è la dottoressa Cozzolino Che fa un minimo di profilo E in questo caso Con Mariotto Che ha scelto La domanda numero 37 Che è Ti piacerebbe Ti sarebbe piaciuto Non cambiare le carte Pure te Ti sarebbe piaciuto Nascere del sesso opposto? No Per il semplice motivo Che l'idea di rimanere incinta Mi terrorizza Fai bene Cioè proprio quando vedo Che ti prendono incinta E che cominciano a crescere Da lì Dopo c'è il ragazzino E ho detto Oddio Poveretta Cioè la cosa che Però pensai La cosa più naturale del mondo Come è Sono d'accordo Però è un'esperienza Cioè nove mesi di quella roba Io ho detto Meglio restare maschio Cioè pensare Non fa niente Tutto Tutto il rapporto Noi avevamo il servizio militare Io quando ero vico Ero terrorizzato dal servizio militare Io Quindi volete essere femmina All'epoca Dicei però Noi donne abbiamo il parto Noi maschi Se non c'è più manco Il servizio militare Quindi mi sarebbe Capite come vi fa sempre bene A quei maschi Sara ti sarebbe piaciuto? No io sono felice Sei felice di essere una donna? Anche se insomma C'ha le sue battaglie Però è bellissimo Alcune volte io ci penso Ah Quanta fatica è meno Se fossi un maschio Dottoressa Da un lato è vero Da un lato è così All'apparenza è più facile La vita dei maschi Ma non è così No Hanno le loro fragilità Le loro sicurezza Hanno le loro fragilità Hanno le loro responsabilità Hanno i loro pesi E hanno poca dimistichezza Con la parola Per cui comunicano poco Tranne Mariotto A ballando con le stelle Che sarà come dire Mi è tazzetto Guarda che si è spogliato Nel frattempo Si ci fa caldo qua E no Effettivamente io tutte le mattine Metto i piedi a terra E prego al signore Grazie di avermi fatto così Enrico Menozzi Approfittiamo di te Come vogliamo chiudere Visto che è arrivata una chitarra E abbiamo il maestro mezzancello Io sono alto Due metri Con la chitarra Da bambino Sto cercando Di mettere No facciamo Io vorrei fare un pezzo con lei Oh mamma mia Con Sara Con lei suona anche Tu suoni Sara Cosa suoni? Io sono malissimo E non mi azzarderò mai Di fare qualsiasi cosa Con Enrico Approfittane Suona e improvvisiamo Tu suoni e le canta Tu canti E io suono Ma cosa? Ma cosa ragazzi? Ma so proponete Qualcosa in inglese Il mio canto libero Battisti Il mio canto libero Non la sa Non la sa Io ho un problema Che se ne ho cresciuto in America Ho principalmente canzoni in inglese Dimmene una Noi parliamo tutte le lingue You know what you could do Knocking on the door Knocking on the door Yeah Knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Kn unjust Knocking on heaven's door Yeah